Zitti zitti un codicino, non so come si chiama, per cui che salva ancora Berlusconi che dovrebbe pagare la bellezza di 700 milioni di euro a De Benedetti perché aveva carpito in maniera fraudolenta la Mondadori corrompendo un giudice e quindi doveva pagare un po' di cifra e ora c'è un codicino che dice che quando le cifre da pagare superano i 20 milioni di euro si può rimandare alla voce di passazione, rimandare praticamente alle arrendine, alle arrende grezze. Ecco da questo punto di vista c'è un aggiornamento di qualche ora fa, il Presidente Berlusconi ha detto che ritira quel codicillo, è stato obbligato a terra. Ma male, perché l'hanno preso il castagna. Perché l'hanno preso il castagna.